Chiederò a Steve di leggere per noi i Romani 8, versetti 26 e 27, e Jim leggerà invece Primo Corinzi 2, versetti 10 e 11. E qui vediamo che lo Spirito Santo ha un intelletto. Pensa da solo. Non è controllato da Dio, il Padre, o da Dio, ma ha una sua propria piazza. Allora Steve, ti dispiace leggere Romani 8, versetti 26 e 27? Allo stesso modo ancora, lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché non sappiamo pregare come si conviene. Ma lo Spirito intercede Egli stesso per noi con sospiri ineffabili. Continua a leggere. E colui che esamina i cuori sa quale sia il desiderio dello Spirito. Il desiderio dello Spirito, perché Egli intercede per i Santi con sospiri ineffabili. Secondo il volere di Dio. La parola di Dio mi dice che Egli ha un desiderio, ha un suo desiderio. Dovete capire la cosa della Trinità. E' un mistero. Ma Dio e il Padre, Dio e il Figlio, Dio e lo Spirito Santo sono separati l'uno dall'altro, eppure uno. Sono differenti l'uno dall'altro, eppure uno. Lo Spirito Santo ha un suo desiderio. E la Bibbia dice in Primo Corinzi, capitolo 2, versetti 10 e 11, A noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito, perché lo Spirito scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio. Egli conosce Dio meglio di chiunque altra persona, da qualunque parte. Infatti lo Spirito Santo conosce le profondità di Dio. E le scritture dicono che non solo Egli conosce le profondità di Dio, ma è Sua gioia rivelarle a voi, soltanto se siete abbastanza puri da riceverle. Gesù disse che Egli rivela il Padre a chiunque Egli desidera. Ma dobbiamo capire bene una cosa dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo, come persona, è l'unico capace di cercare le profondità di Dio e scoprire Dio. Pensateci, questo è un mistero, per me è glorioso. Continua pure a leggere, G. Infatti chi tra gli uomini conosce le cose dell'uomo se non lo Spirito dell'uomo? Le parole, chi ti conosce meglio se non il tuo Spirito stesso? Così nessuno conosce le cose di Dio se non lo Spirito di Dio. In altre parole, nessuno ti conosce meglio di te stesso. Nessuno ti conosce meglio di quanto il tuo Spirito ti conosca. Così nessuno conosce Dio come lo conosce lo Spirito. Non è benedetto tutto questo, è così prezioso. Ma le scritture proseguono dicendo, continua G, ma arriva fino alla fine. Ora noi non abbiamo ricevuto il Spirito che viene da Dio per conoscere le cose che Dio ci ha donate. Non è straordinario? Lui lo sa. Lui lo sa. Lui ha conoscenza. In Romani 8, 26 e 27, leggiamo in primo corinzi 2, 10 e 11, vediamo che ha conoscenza. Cerca le profondità di Dio. Ha un intelletto. Ma non solo possiede un intelletto, ha una sua propria volontà. Non dimenticatelo mai. Mai e poi mai. Questa è una scoperta che mi ha cambiato la vita. Egli ha una volontà separata. Ma ascoltate, guardatemi, guardatemi. Lo Spirito Santo è così diverso dal padre e dal figlio. Egli avrebbe potuto decidere di non far resuscitare Gesù dalla morte. Ma era così fedele a Gesù che Gesù si arrese allo Spirito Santo ancora prima di diventare uomo, sapendo che lo Spirito Santo poteva sostenerlo, dargli forza e farlo sorgere dalla morte. Per tutto il tempo lo Spirito Santo prendeva le sue proprie decisioni. Avrebbe anche potuto cambiare idea a metà strada. E io e te non sarei mai salvati. Gesù sarebbe morto e non sarebbe mai risorto dalla morte. Quando Gesù lasciò il cielo non c'era altro modo di ritornare senza lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo ha una sua propria volontà. Ripetete. Questo è ciò che insegna la Bibbia. Egli è una persona totalmente separata dal padre e dal figlio. Mi ha sorpreso quando Gesù si tratta di lui. La Bibbia dice anche che quando Gesù offrisse stesso al padre, egli offrisse stesso per me. Quando il padre gli chiese, Gesù rispose, ci andrò ad una sola condizione, solo se lo Spirito Santo mi sostiene, mi rafforza e mi riporta a casa. E lo Spirito Santo disse, lo farò. Gesù rispose allora, mi arrenderò a te. Quindi Gesù Cristo si arrese allo Spirito Santo e diede se stesso per mezzo da me. È scritto in ebrei. Pensate che sarebbe successo se lo Spirito Santo avesse cambiato idea a metà strada. Arrivò in tempo sulle rive del Giordano. Quando Gesù uscì fuori dalle acque battesimali, lo Spirito Santo mantenne la sua promessa e si rivelò, ungendolo per il ministero. Egli era in pieno controllo della sua vita, anche mentre lo conduceva nel deserto per essere tentato, per poi farlo ritornare con potenza, ungendolo e operando miracoli attraverso di lui. Quei miracoli venivano fatti per mezzo della potenza dello Spirito Santo, anche i demoni non sarebbero usciuti fuori se lo Spirito Santo non fosse stato lì. Gesù avrebbe detto, avrebbe detto, esci fuori e nulla sarebbe successo se lo Spirito Santo non fosse stato lì. Gesù stesso diceva, se io per mezzo dello Spirito Santo scaccio i demoni. Quindi dichiara quella potenza se non dello Spirito Santo. E la mia domanda è, se Gesù aveva così bisogno dello Spirito Santo, quanto dobbiamo averne noi? Se Gesù era così dipendente da lui, quanto dobbiamo esserlo noi? Se Gesù si fidava di lui, perché non ci fidiamo di lui? Egli è fedele, ripetete, quanto è stato fedele con Gesù, non l'ha deluso una sola volta. Alleluia. E Gesù conosceva bene lo Spirito Santo da arrendersi a lui nel modo in cui ha fatto. Ma la Bibbia dice che lui aveva una sua volontà. Vai avanti per favore, Jim. Ma tutte queste cose le opera quell'unico e medesimo Spirito, distribuendo i doni a ciascuno in particolare come vuole. Come vuole. È lo Spirito Santo che decide quali doni vengono dati al corpo di Cristo. Dio gli ha concesso la piena responsabilità della Chiesa. È un po' così, miei cari. Dio il Padre ha detto al suo figlio, ci andrai? Poiché Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo unigenito figlio Gesù. Gesù venne e fece la volontà del Padre. Ma è lo Spirito di Dio che rivela la benedetta opera di Cristo Gesù al cuore degli uomini. È la sua potenza che la fa diventare reale. Egli manifesta l'opera del Calvario. Quindi il Padre disse, Gesù lo fece e lo Spirito Santo lo rivela. senza lo Spirito Santo non sapreste mai cosa è successo. Dite, il Padre disse, Gesù lo fece. Ora, dove saremmo se lo Spirito Santo non l'avesse rivelato? Non ci sarebbe stato un cristianesimo, non sarebbe riuscito a sopravvivere un secondo dopo la morte di Gesù. Ma il fatto che lo Spirito Santo scese, Egli lo rivelò. Egli è il grande rivelatore. Il cristianesimo è una rivelazione. Ripetete. Non è una religione, è una rivelazione. È la rivelazione di Gesù Cristo. Ma chi è il grande rivelatore? Lo Spirito Santo. Non avreste conosciuto Gesù senza di Lui. Non avreste conosciuto la parola di Dio. Non ci sarebbe stata alcuna Bibbia se Egli non avesse rivelato la parola di Dio ai profeti. Quindi Egli ha una sua volontà e ha delle sue proprie emozioni, proprio come te e me. Infatti la Bibbia dice in Efesini 4, ti dispiace leggere per noi? Vorrei che leggesti i versetti 29 e 30. Nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca. Ora, ascoltatemi molto attentamente perché questo è ciò che lo rattrista. Ciò che lo rattrista sono proprio le cose che le persone dicono. Nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca. Ma se ne avete qualcuna buona che edifichi secondo il bisogno, ditela affinché conferisca grazie a chi l'ascolta. Continua. E non rattristate lo Spirito Santo di Dio con il quale siete stati suggellati per il giorno della redenzione. Le persone lo rattristano tramite le cose che dicono. Nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca. E non rattristate lo Spirito Santo. Egli è l'unica persona della divinità che si rattrista e viene ferita. Egli è estremamente sensibile. Stasera vi sto addestrando nel modo più potente che io possa fare, presentandovi colui che vi userà. Senza lo Spirito Santo non potreste fare niente. Sentito? Non potete educare le persone nel ministero. No, no, no. Il modo migliore per addestrarvi è facendovi conoscere colui che può usarvi. Egli è una persona. Ha un intelletto, una volontà, emozioni. Non rattristate lo Spirito Santo con il quale siete stati suggellati. La Bibbia ci dice in Romani 15, versetto 30. Ti dispiace leggerlo, Jim? Ora, fratelli, vi esorto per il Signore nostro Gesù Cristo e per l'amore dello Spirito. Ora, guardate, per l'amore dello Spirito, per il Signore nostro Gesù Cristo e per l'amore dello Spirito. Aspettate un attimo. Mi è stato detto che Gesù mi ama tante volte, ma non ho mai sentito nessuno dirmi che lo Spirito Santo mi ama. Eppure mi ama. Avete sentito che cosa ho detto? Dite, Gesù mi ama. E lo so. Ora volete dire, lo Spirito Santo mi ama. So anche questo. È ciò che dice. Noi siamo cresciuti sapendo che Gesù ci ama. Sono qui per dirvi che lo Spirito Santo vi ama. Assolutamente, lo dice nella parola di Dio. Ora, la parola di Dio ci dice che l'Apostolo Paolo pregò affinché possiate conoscere la sua comunione quotidianamente. Leggiamo in secondo Corinzi. Vorrei leggere il capitolo 13, versetto 13. Chiederò a Steve di leggere per noi. Qui troviamo una preghiera straordinaria sul rapporto, la comunione. La parola greca, chi non è o significa lo Spirito Santo con voi. Gesù camminava in quella comunione. Gli Apostoli camminavano in quella comunione. I Santi camminavano in quella comunione. Ora le scritture dicono queste parole. Leggi pure. La grazia del Signore Gesù Cristo e l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Amen. Ora, qui sta pregando. Sta pregando l'amore di Dio, la grazia del Signore Gesù e la comunione dello Spirito. Quanti di voi hanno bisogno dell'amore di Dio ogni giorno? Quanti di voi hanno bisogno della grazia di Dio ogni giorno? Avete anche bisogno della sua comunione. Noi vogliamo il suo amore, la sua grazia, ma non dimenticate mai la comunione. Ora, quella comunione è ciò che ti mantiene in vita. Ripetete, comunione. Ora, la parola comunione significa rapporto, significa essere compartecipi, partecipare con Lui, operare con Lui, camminare con Lui. Questo è il miglior segreto per la vita di un credente. Questo è il segreto della potenza, è il segreto della vittoria, è il segreto di potenza sopra il peccato e i demoni. Quanti vogliono essere liberati dal peccato completamente liberi? Ascoltatemi, laddove c'è lo Spirito del Signore c'è libertà. Esattamente. La libertà esiste solo dove c'è Lui. Se vuoi la libertà, non cercare la libertà, cerca lo Spirito Santo. La libertà sta dove sta Lui. Dite con me, dove c'è lo Spirito c'è libertà. Dove c'è lo Spirito del Signore c'è libertà. C'è un luogo di liberazione. È la sua presenza. Il mio desiderio è che voi possiate conoscere lo Spirito Santo. Davvero, desidero che voi lo conosciate nella sua pienezza, nella sua maestà, nel suo amore. Oggi avete ascoltato un insegnamento sullo Spirito Santo. Ci sono così tante cose che posso insegnare in questi programmi, ma voglio pregare innanzitutto che il Signore stesso possa visitarvi, perché, sapete, la parola di Dio dice che non è né per forza né per potenza, ma per il mio Spirito, dice il Signore. Nel lontano 1973 io ho conosciuto lo Spirito Santo durante una riunione di Kathleen Kuhlman e ho scritto Buongiorno Spirito Santo, un libro che ha cambiato la vita di milioni di persone. Adesso ho quasi 60 anni, li compierò questo dicembre, e ripenso a quello che Dio ha fatto per me in tutti questi anni. Io non voglio finire male, voglio finire bene, e conosco il segreto. Il segreto per me è per voi. È né per forza né per potenza, ma per il mio Spirito, dice il Signore. Gesù non sarebbe reale per noi senza lo Spirito Santo. Saremo ancora nei nostri legami senza lo Spirito Santo. La scrittura dice in 2 Corinthians 3, dove c'è lo Spirito del Signore, lì c'è libertà. Senza di Lui non c'è luce, non c'è liberazione, non c'è gioia. Senza di Lui il peccato ci distruggerà, ma con Lui abbiamo libertà. Il peccato non ci dominerà soltanto se conosciamo lo Spirito Santo e camminiamo per lo Spirito. È scritto, camminate per lo Spirito. Ecco perché vi sto portando questi meravigliosi insegnamenti.